Vogliamo spiegare l'importanza di questa iniziativa, di questo progetto? Cos'è l'oblio oncologico? L'oblio oncologico è il diritto a non dover dichiarare di essere stati ammalati di cancro quando siano passati 10 anni dal termine dei trattamenti in assenza di recidiva. Può sembrare una cosa di scarso significato. In realtà un soggetto che è in queste condizioni, cioè dove sono passati almeno 10 anni, 5 per i tumori infantili, dal termine dei trattamenti ha lo stesso rischio di morte di un soggetto che non abbia mai avuto il cancro. Mentre se va a stipulare un'assicurazione o a richiedere un mutuo si sente richiedere un prezzo aggiuntivo perché è considerato soggetto a rischio. E questo non è assolutamente accettabile. Nella realtà ci sono situazioni in cui addirittura la guarigione avviene prima di quel tempo. Però se cominciamo a mettere almeno questo tassello garantiamo diritti a un numero enorme di persone. Perché uno pensa ma saranno occasionali. No, non sono occasionali. Sono quasi un milione di persone in Italia. E un milione di persone sono tante. E il punto fondamentale poi è anche che questo cambia radicalmente il paradigma. Cioè si passa dal concetto del cancro uguale morte al concetto dal cancro si può guarire. Non si guarisce. Questa sarebbe una bugia. Si può guarire se lo si è trovato per tempo e lo si è curato nel modo corretto. Dobbiamo tutelare i diritti di tutte le persone che ci sono. E' impensabile che delle persone, nonostante abbiano superato la tragedia di una malattia, il dolore con la famiglia anche di un problema, io penso soprattutto ai ragazzini che sono guariti e che si trovano comunque a 25, 30 anni, 40 anni, che se devono iniziare un'attività o devono chiedere un mutuo, hanno delle problematiche ed è inammissibile che venga etichettata una persona. In nessun modo le persone vanno etichettate, soprattutto gli ex malati. Quindi l'oblio oncologico vuole mirare a questo, raccogliere tante firme, almeno 100.000, siamo a quota 75.000 firme, per poter portare poi al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica una richiesta fattiva e importante per attivare questa legge, che già è stata promessa tante volte e non è stata fatta. Noi ci siamo, come a Ricesta, immediatamente messi a disposizione delle realtà locale per questa iniziativa della camminata, quindi per favore venite tutti, tutti, tutti a fare questa camminata di solidarietà, perché forse vedendoci passeggiare con le mascherine, con le cose, le persone si chiederanno qualcosa e verranno a firmare.